Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Siamo Gianluca, Alessandro e Claudio, tre amici che si sono conosciuti ai tempi dell'università a Pollenzo. Siamo molto diversi tra noi, ma condividiamo una grande passione per l'enogastronomia, per tutto o quasi tutto ciò che è edibile e potabile. Una di quelle amicizie costruite tra piatti di pasta e bottiglie di vino. Questo spazio si chiama Juice It Up! perché quello che faremo è spremere e tirare fuori tutto quello che c'è di interessante e innovativo nel mondo dell'enogastronomia. Stay Juice! Il viaggio è appena iniziato! Sono Ale e oggi con Gianlu avremo il nostro ospite Nelson Pali. Nelson è romagnolo e vive a Londra. È stato l'Event Supervisor e ora è diventato Wine Buyer del 67 Palmall, da molti considerato come il club privato di fine wines più prestigioso al mondo. Oggi parleremo infatti di vino e di fine wines. Nelson è un grande storyteller, scrive per Winesurf, che è un giornale online che parla di enogastronomia e ha recentemente presentato Verticale, che è un magazine semestrale legato al vino totalmente indipendente. Vi avviso già, mettetevi comodi perché sarò un lungo viaggio all'interno del mondo di Nelson, del mondo del vino. Io Gianlu sono carichissimo e quindi direi di iniziare. Ciao Nelson, benvenuto su Juice It Up! Ciao, grazie Gianlu, grazie Ale. Io vengo qui come fan, prima di tutto. Cioè io odio i podcast, è una cosa che mi fanno incazzare da morire, però il vostro lo ascolto sempre con gran piacere. Quindi grazie dell'invito. Un onore, grazie a te. E direi subito partiamo con la prima domanda. Raccontaci chi sei e quelle che sono state le esperienze che hanno caratterizzato la tua carriera fino ai giorni nostri. Devo cercare di condensare un bel po', vado il più possibile. Allora, 20 luglio 89, quindi un po' degli anni 80, l'ho vissuti. Primi 90 noi a Rimini avevamo un grandissimo locale che era il Velvet Rock Club. Quindi il sogno era che un giorno, cioè noi avevamo una scena musicale che faceva paura. E io scopro che quella era la cosa che mi piaceva fare. E il sogno da teenager era suonare al Velvet Rock Club. Perché noi andavamo e tu ti trovavi i Motor Cycle una sera, i Black Rebel Motor Cycle Club. E quindi io capisco, cazzo, non voglio fare quella roba lì, cioè voglio salire su un palco e avere tutti quanti che si infuocano. E inizio a fare il chitarrista. I miei genitori volevano che io facessi economia e commercio. E' stata la cosa peggiore della loro vita vedere proprio, oh mio Dio, la chitarra. E niente, ho iniziato che quando avevo 16 anni c'era questa band metal famosissima in Italia. Si chiamavano Down Under Eclipse. Si aprivano per gli Iron Maiden, abbiamo fatto tour con Pino Scotto, delle cose fuori di testa. E poi da lì ho iniziato a dire, va bene, cioè ho iniziato a avere le mie prime esperienze come musicista e tutto quanto. Vado a fare musicista di lavoro. Quindi vado a Bologna a fare l'Accademia, la Music Academy ai tempi. E quello che succede è che tramite questa Accademia arriva un bando per andare a studiare in Inghilterra. Avevo tipo 19 anni. Prendo e vado e mi trovo in questa scuola a Guilford che si chiamava ACM, Academy of Contemporary Music. Che ti dico, adesso rivederla nel passato, era come le grandi scuole di Los... Hai presente quando leggi tipo le storie? Ah, i redocci di Pepper si sono incontrati alle mai di LA negli anni 80. Ed era una cosa così, capito? Nel senso che tipo con me c'erano queste classi assurde. Noi avevamo questo gruppo di italiani tra cui ci sono dei personaggi che oggi sono grossissimi. Cioè c'era Carmen Vandenberg che adesso è una delle top chitarriste a Los Angeles. C'era il mio caro amico che è venuto con me da Rimini, Luigi Casanova che fa tour mondiali, apre per il Queen, cioè pazzesco. E c'era Filippo Cimatti che adesso è il produttore di... Ha prodotto Jeff Beck, delle cose pazzesche. E c'era Linda Buratto che suonava con Kate Nash. Tra l'altro un'altra cosa, voi lo conoscete, Venerus? Io ho grandissimo fan, grandissimo proprio. Venerus esce dall'ACM. Venerus prodotto da Filippo Cimatti esce perché noi eravamo in un pub a sbronzarci e arriva questo ragazzo a Gilford che ci fa Ciao ragazzi, ma siete italiani? Perché io non conosco nessuno. Io mi sono già detto, ma chi è questo strozzo? E abbiamo passato cinque anni assieme. Poi lui tornò in Italia, cioè quindi c'è proprio amico di lunghissima data e lui viveva con questo Filippo Cimatti che è uno dei suoi producer e suona anche con lui. Insomma lui era di quella banda lì, cioè Venerus era del nostro gruppo di italiani. All'interno di questo gruppo di italiani c'era Linda Buratto di cui suo padre era un master sommelier dell'alma. Ci troviamo a un matrimonio insieme e mi parla per la prima volta del WST che io non avevo idea di cosa fosse. Io non bevevo vino prima, ero un mastro birraio della vecchia scuola, anzi la vecchia scuola di bisogna spendere il meno possibile per far serata. Ti ordini una birra, ci butti dentro un bello shot di whisky. Questo è un trick, vedo che lo conoscete voi. E quello che succede insomma mi introduce al mondo del vino e mi fa un parallelo su quanto il mondo del vino può essere una cosa su cui ti puoi intrippare tanto quanto lo puoi fare con la musica. Io ai tempi stavo finendo il mio master in chitarra jazz al Trinity Laban, quindi era una roba di un'intensità fuori di testa, e io avevo un giorno libero. C'era solo un giorno in cui non lavoravo, che era il martedì. Quindi io mi sfondavo di gig, stavo facendo, insomma lavoravo con The Voice, ai tempi UK, poi ero nell'orchestra del Trinity Laban. Insomma, il martedì, giorno libero, e inizio a lavorare come sommelier in questo piccolo locale. Sixie Seven Palmal viene a sapere che io ero in giro, ero un po' un personaggio, insomma la gente tornava sempre per questi tasting che facevo il martedì. Mi fanno una proposta di lavoro, e la proposta di lavoro però è molto chiara, cioè non c'è spazio per la musica e per la sommellerie, devi decidere. Decido di mollare tutto, una carriera di 15 anni, buttata nel cesso per andare a bere in questo progetto. Tu arrivi lì, è una cosa... Io quando lo raccontavo ai primi tempi di Sixie Seven Palmal in Italia, non ci credeva nessuno che questo posto esistesse. Cioè proprio era impossibile immaginare per qualcuno un posto con 850 vini al bicchiere, e tra questi vini la Tour 96, la Fit 89, qualsiasi cosa possibile e immaginabile era lì. Io mi ricordo ancora, c'è ancora adesso una delle prime magnum di sine qua non, quando ancora non era segnalata come sine qua non. Cose pazzesche, c'è la follia che quel posto rappresentava, era inspiegabile ancora oggi. Decido di andare nel sommelier team, e quello che succede adesso, devo dividere le due storie tra Londra e Italia. La storia di Londra succede che io inizio a fare il junior sommelier, poi senior sommelier e poi supervisore degli eventi. E adesso sono il wine buyer della compagnia. All'interno del mio percorso, però la cosa per cui stranamente la gente riconosce me e soprattutto il mio collega Federico Mocia, che saluto nel caso Ascolti, sono due cose. La prima è la storia dei Barolo Boys. Cioè noi a una certa, perché Federico era l'event supervisor prima di me, noi abbiamo avuto l'onore di servire più e più volte Jasper Morris e Jane Hanson. E capiamo una cosa dell'Italia. Capiamo che in Italia non c'è un linguaggio che è specifico di un determinato tipo di cultura di acquisto del vino. Cioè che quando una persona acquista, ha un determinato modo di ascoltare riguardo a chi parla del vino. E noi diciamo, è incredibile, perché noi vedevamo che quando noi eravamo seduti a guardarli, diciamo, ma perché tra tutti questi non c'è nessuno che parla dell'Italia in questo modo? Iniziamo a farlo noi e scopriamo che in realtà il vino italiano è effettivamente il più richiesto dal mercato, ma nessuno riesce a comunicarlo. Noi prendiamo Barolo, facciamo una Masterclass di Barolo che a tutt'oggi è l'evento più venduto della storia di Sikisayan Palmar. Cioè di tutti gli eventi che abbiamo fatto, il più richiesto è la nostra Masterclass di Barolo, a cui poi sono seguite le prime Masterclass mai fatte di singoli crew di Barolo, che sono cose, cioè, se voi ci pensate, un tasting dove hai conterne e altare insieme, è follia, e l'abbiamo fatto. Cioè primo tasting di Cerretta mai fatto, primo tasting di Era Vera, cioè è stata una roba pazzesca che ancora oggi continua, ne facciamo quasi uno al mese, con quello che continua dopo e che arriva lo sponsor di Jane Hanson che inizia a scrivere che quello che stiamo facendo io e Federico è esattamente quello che hanno fatto loro per la Francia, lei e Jasper per la Francia. Delirio, immaginati il delirio. Poi un'altra cosa che cito per finire poi la storia di Londra è i primi test, le prime monografie di musica e vino. Quindi io sono un grande fan di Maurizio Pratelli, ciao Maurizio Ascolti, che ha scritto un libro che tanti dovrebbero leggere, che è Vini e Vinili, bellissimo, c'è la versione bianco e la versione rosso, veramente fondamentale, però c'è un problema, che nel mondo dei pairing di vino e musica non c'è nessuno che sia stato un musicista certificato e un sommelier. Quindi io e Richard Banfield ogni anno facciamo questi speciali di musica e vino per i quali c'è una grande richiesta. La parte in Italia invece è completamente diversa, perché tramite Walter Speller mi conosce Giorgio Melandri che mi porta a Modigliana a parlare con lui. Da lì conosco la Barbara Amoroso che mi invita a mandare una email a Carlo Macchi per scrivere su WineSurf. Inizio a scrivere per WineSurf, Carlo è forse uno dei più grandi direttori che abbiamo mai conosciuto, solo per un motivo. Quello che rende un grande direttore è il potere di proteggere quello che scrivono i suoi collaboratori. E su questo Carlo Macchi è sempre stato il primo a farmi capire quanto può essere, soprattutto in Italia, pericoloso scrivere qualcosa, magari ne parliamo dopo. E mi ha sempre dato uno spazio di libertà che sicuramente poche testate hanno in Italia e le conosciamo tutte più o meno. Da lì poi è partita, da dove probabilmente mi conoscete anche voi, la famosa intervista di Intravino. Io sono molto famoso per dire non ho limiti, dico quello che penso perché lo vedo e ci sono molte cose dell'Italia che mi fanno incazzare. Con quell'intervista è partito un boom che finisce con, e ne parliamo dopo, il fatto che io, Jacopo Costatero e Matteo Gallello abbiamo lanciato un magazine stampato in Italia nel 2021 che si chiama Verticale, ma ne parliamo dopo. Allora, 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 l'energia emersa da questo racconto secondo me è qualcosa di prezioso che va tutelata. Iniziamo dalle basi. Quello che ti chiedo è, in primo luogo, di spiegarci, perché magari molti di quelli che ci ascoltano non lo sanno, che cosa è un wine club. Perché in Italia non è estremamente diffuso come concetto. E poi, se possiamo andare nello specifico, con il 67 Paul Mall per raccontarci un po' che cos'è che fa questa realtà e che cos'è che la rende unica a livello mondiale. Allora, prima di tutto Private Members Club. Detto in maniera molto poco PC, tu sei a casa, tua moglie ti rompe il cazzo, hai bisogno di un posto dove stai con tutti i tuoi amici a raccontare tutte le stronzate. Così praticamente nascono i Gentlemen's Club. Quando vai in quelli storici io ho suonato ai tempi quando ero musicista e l'ho suonato in tanti di quelli storici, sono dei posti abbastanza osè come presentazione. E noi, tra l'altro a Palm Hall, abbiamo una piccola sala che ricorda questi vecchi Gentlemen's Club che chiamiamo il Naughty Corner. Quindi sono un po' di pitture erotiche, però abbiamo fatto tutti e due i sessi, quindi ci sono un po' di pitture erotiche maschili e femminili. Insomma, questa è la cultura, cioè la cultura del Gentlemen's Club. Cioè i Gentlemen's si incontrano in dei club specifici dove si parla più o meno, cioè sono posti comunque di cultura, posti che sono legati all'arte, ci sono posti che sono legati al collezionismo di macchine, insomma nascono anche per una sorta di incontro culturale. Palm Hall è il primo club fatto per la cultura del vino. È un'idea del nostro CEO e founder Grant Ashton con cui condivido una scrivania, quindi non avevo imparato in questi mesi a conoscerlo molto bene. E infatti questo, loro avevano una cena che si chiamava The Boys' Night di cui io ho fatto il sommelier negli ultimi due anni, una cosa pazzesca, dove loro si incontravano tra amici e sbocciavano tutto. Questo cosa succede? In Italia quando gli amici si incontrano fondano un partito, in Inghilterra si aprono club, cioè nel senso che comunque hai presente quando si andava alla casa del popolo, no? Il Gentlemen's Club è la versione inglese con un tipo di cultura molto diverso, ma non è molto distante come concetto di base, il core concept è esattamente lo stesso. Palmal ha una cosa che è differente da tutti gli altri. Prima di tutto hai un team di sommellerie fortissimo, guidato da Ronan Sabre Master Sommelier. Insomma, è un team ad alto sforzo, nel senso che un servizio di 67 Palmal non possono gestirlo tutti. Noi abbiamo visto sommelier fortissimi cadere pesantemente di fronte a, di fronte allo sforzo che Palmal richiede, perché Palmal richiede una cosa, richiede di essere sia un sommelier di stile classico, quindi devi sapere tutte le regole francesi, come si serve, ma richiede personalità. Un sommelier deve sapere di cosa sta parlando, ma oltre a sapere di cosa sta parlando deve dare un imprinting che sia personale. Una formazione storica di Palmal c'era un trio italiano che eravamo io, Federico Moccia e Beatrice Abessi. Chiunque capitava ognuno dei tre lo stile era molto diverso, quello che raccomandavamo era molto diverso. Vi faccio un esempio, Idee su Bordeaux. Federico è un grande classicista su queste cose, nel senso che è molto 2009, 2005, 2000. Io sono un pre-francese, quindi mi piacciono la 2001, la 2004, la 1983. Beatrice invece è anche molto modern, chicchette, cioè nel senso si può sparare che quel producer nella 2006 ha fatto una cosa pazzesca, tu non l'avresti mai comprato. Quindi già, solamente come è una conformazione dei sommelier che ti trovi davanti, cambia completamente il ritmo della serata. Veramente, non c'è nessuna differenza tra un servizio di 67 Palm Hall e un concerto jazz a New York negli anni 50. Cioè è proprio jam session, è una jam session pazzesca, fatta però dai più grandi musicisti che puoi trovare. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è un catalogo di vini al bicchiere pazzesco, parliamo di 850 vini al bicchiere. Tu letteralmente hai la possibilità di bere qualsiasi cosa che tu possa immaginare. La magia per me, io quando vedo la wine list vedo solo i codici SKU e le location ormai ma io mi ricordo quando sono arrivato la prima volta tu arrivi e ti faccio solo per dire Ottobrion 1989 che è una delle bottiglie più incredibili mai prodotte ha una storia e una reperibilità bassissima boom al bicchiere l'abbiamo finita venduta a sorsi di 25-50 ml cioè in due giorni quale altro posto al mondo può fare una roba così? e ti rispondo poi alla terza cosa che è questo rock and roll e vino questa è una cosa secondo me molto legata all'Inghilterra nel senso che l'Inghilterra ha una cosa molto particolare va vissuta secondo me tramite la loro televisione guardiamo la nostra televisione la nostra televisione è stata grande cultura a sfondo teatrale quindi pensa all'ispettore Maigret o tutto lo sceneggiato Rai che poi è sfociato in tetteculi di Berlusconi l'Inghilterra ha avuto la BBC di informazione dritta mista a comicità di veramente molto si dice odd in inglese quando dici che è strana ma strana che non capisci cioè l'Inghilterra è un paese che ti poteva dare sia la BBC di quegli anni lì molto stricte immaginatevi la BBC nei tempi di Margaret Thatcher e unitela al fatto che c'era Flying Circus dei Monty Python quindi gli inglesi hanno una grande educazione e un grande portamento ma il loro gut cioè il loro stomaco è forse molto più mi vorrebbe dire sporco del nostro cioè il nostro gut è più il vaffanculo cioè il vaffanculo alla Beppe Grillo no? Quello potrebbe essere un nostro stomaco il loro stomaco ha un'artisticità che è molto diversa e va molto più in profondità anche a livello di linguaggio cioè tu ti puoi permettere di essere molto più colorito nel linguaggio in Inghilterra piuttosto che in Italia perché anche lì è una forma di cultura che viene da quel tipo di parlare allo stomaco del pubblico inglese che se vai a vedere nella storia è incredibile è su Netflix guardatevi Monty Python Flying Circus se capirete tanto perché io parlo quando faccio le mie masterclass io parlo a quel tipo di pubblico lì strastra interessante c'è raccontato del Palmall di Londra ma guardando sul sito ho anche visto che avete aperto in altre location e quindi ti chiedo più una curiosità da parte mia fai finta che io e Alessandro siamo due imprenditori che veniamo da dire e ti diciamo vorremmo aprire un wine club un Palmall in Italia come ce lo venderesti o anche che consigli ci daresti per aprire un wine club in Italia se secondo te l'Italia è pronta per questo tipo di offerta o se invece abbiamo un tipo di clientele di consumo ancora troppo distanti da questo mondo qui qui adesso entriamo in un territorio dove la prima cosa è Palmall si è trovato ad essere una cosa centrale di Londra ad un'espansione globale l'espansione globale perché è una cosa inevitabile è un progetto che veramente cioè c'è troppo genio in questo progetto qua per fare in modo che rimanga fisso in un posto solo purtroppo non posso perché io so tutto però non posso parlare apertamente chiaramente di qual è l'espansione a lungo a lungo tratto adesso apre Verbie e apre Singapore anzi Verbie ha già aperto in Svizzera e Singapore quello che parte è che noi vediamo che ci sono dei posti che culturalmente possono abbracciare il nostro concetto cioè questa è veramente la base cioè la base che Palmall è come tutti business un business quindi chiaramente noi tutte le mattine ci alziamo e guardiamo quanti soldi abbiamo fatto rispetto all'anno scorso rispetto alla settimana prima come qualsiasi posto che si rispetti ma la base di Palmall è una base culturale cioè tu devi contare questo è come io faccio il discorso del leaflet quando io lavoro con o mi chiedono consigli consorzi produttori la prima cosa che io dico sempre è la prima cosa di base è un leaflet perché perché il leaflet ti dà il modo di condensare ore e ore di discorsi dentro due pagine di cinque minuti quella cosa ti regala tante tante ore di tempo che tu avresti speso in raccontare le basi quindi perché io devo spendere un sacco di tempo a raccontare a qualcuno qual è la differenza tra Bourgogne Blanc e Bourgogne Premier Crew le Combot quando ho un pubblico con cui posso dire ok ma di tutti i produttori delle Combot qual è il tuo preferito quindi è un discorso di qual è il tipo di discorso che puoi affrontare se noi immaginati è come se io adesso stessi parlando con voi e però voi siete uno è un architetto e un altro è un pasticcere cioè nel senso capito parleremo di cose diverse interessantissimo ma nel momento in cui io arrivo e vi dico ok questo bicchiere costa 140 pound e tu mi dici ma questi sono 125 ml ma che cazzo stai dicendo ora io ricevo almeno una telefonata al mese di imprenditori e gente che cerca di aprire un club come 67 in Italia io sono molto onesto su questa cosa lasciate perdere perché prima di tutto c'è una ricerca che deve essere uno voi venite a Palmar non è che vi trovate il 2015 o 2016 di Bordeaux vi trovate gli anni 80 gli anni 90 dove si trovano queste bottiglie second market in Italia il second market a prescindere non è forte abbastanza da poter gestire un club intero che ha un turnover di bottiglie pazzesche seconda cosa a chi cazzo le vendiamo queste bottiglie chi è in Italia che non solo ama il vino ma è abbastanza ha una cultura che è abbastanza forte da poter fare una membership e andare costantemente in un club mettersi al servizio del rispetto di un sommelier e poi eventualmente fare un business plan su cui questa cosa può essere applicata facciamo 1500 persone in Italia la cultura del vino non c'è e non esiste questa è una cosa che bisogna mettere in chiaro questa cosa secondo me va espressa in una serie di punti il primo punto è producer profile voi guardate in Italia facciamo un esempio Chianti Classico se io vi chiedo Chianti Classico le bottiglie che probabilmente vi verrebbero in mente sarebbero Castelli in Villa Aldele Corti no ragazzi Chianti Classico Isole Olena Fontodi cioè questi sono i nomi Castello di Ama questa è la prima cosa in Italia i grandi producer che hanno veramente messo l'Italia sulla mappa sono reputati delle teste di cazzo cioè quando noi parliamo Sassicaia quante volte andate a una cena si parla di Sassicaia e tutti Sassicaia che merda oh guarda che se non c'era Sassicaia qua non c'era niente se non c'era Conterno con Monfortino o se non c'era Marche de Grazia a Barolo il Barolo avrebbero continuato a vendertelo a 10.000 lire due casse e il dolcetto te lo vendevano a milioni di euro cioè il fatto è questo l'Italia in sé quando prendi il mondo del vino italiano è sempre in lotta con se stesso cioè l'Italia ha ancora fascisti e comunisti su tutto nel senso che Sassicaia sono i fascisti e Emilio Pepe è il comunista quindi il mondo del vino naturale cioè queste cose all'estero non esistono tutte le lotte interne in Italia produttori contro produttori contro il mio vicino è una merda io faccio il vino più buono io queste cose a fatica le ho viste in giro è una cosa tutta italiana e anche la didattica italiana è tutta basata su cose che nel resto del mondo non hanno assolutamente senso quindi nel momento in cui l'educazione sul vino in Italia è così frammentata tu come fai a creare un posto che richiede una cultura dove tutti sono accettati perché a Palmal Emilio Pepe è rispettato nello stesso modo con cui è rispettato Fontoni come è rispettato Sassicaia e rispettato Fabio Motta cioè per noi prima è il vino di qualità questa è la base poi il resto le storie la politica quelli sono cazzi vostri e non capisco come mai in Italia questa cosa è così potente c'era una cosa che avevo postato su Instagram che mi ha fatto ragionare tantissimo avevamo fatto uno speciale Bulgari Second Label e avevamo messo il bruciato mi sono degli antinori mi sono arrivate talmente tante lettere di merda in faccia che io ho detto ma perché sto io sto perdendo il mio tempo a rispondere a questa gente quando se noi facessimo un blind tasting con chiamiamo Super Tascan italiani che anche lì tutti incazzatissimi intanto però quanto bottiglie vendono con un nome del genere perché bisogna anche pensare a quello capito cioè tutti quanti in Italia che bello la filosofia però il vino si deve vendere 15 milioni di euro di fatturato sviluppa il bruciato un'azienda il bruciato vuoi farti due risate il bruciato esce in UK tutto in allocation cioè non è che tu lo puoi comprare così finisce tutto ma ripeto è un vino buonissimo guardate che per quello che costa c'ha una qualità dietro che fa paura poi se vogliamo fare tutti i nostri discorsi di questo quello quell'altro va benissimo io sono il primo però quando voi guardate al vino come un prodotto ma soprattutto un prodotto a spiegare qualcuno che non è italiano perché noi veniamo da una storia che viene dai nostri nonni e tutto il resto è diverso è diverso e io sono per tutti dentro questa è la cosa che a me un po' fa incazzare dell'Italia è che blocca la cultura in Italia castello in villa insieme a castello di ama Gianluca Colombo insieme a Elio Altare basta quando un vino è buono è buono e dovremmo essere secondo me in Italia molto più contenti di fare questi vini della madonna piuttosto che andare a spalare merda uno contro l'altro cioè questa è la cosa secondo me che veramente blocca la cultura in Italia ed è un motivo per cui non riusciamo a creare un pubblico che possa bere il vino in quello specifico modo cioè bere il vino con il rispetto per la storia e i tuoi gusti personali cioè tu puoi dire a me Sassicaia non piace però dire che Sassicaia è una merda stiamoci attenti a queste cose in Italia un pochettino capito? questo secondo me è una cosa molto importante che c'è ovunque è secondo me il vero grande blocco perché per esempio secondo me Sassicaia tutti quanti dovrebbero bere Sassicaia 2015 deve essere secondo me una bevuta obbligatoria per chiunque parli di vino soprattutto in Italia perché c'è anche uno studio sul legno che è molto preciso ha un'identità molto bordolese sul uso del legno ed è una cosa che per esempio a livello tecnico in Italia difficilmente si è vista prima con quel tipo di conoscenza tecnica non lo so capito è allo stesso livello io li metto tutti insieme per me il vino è o buono e cattivo poi dopo arrivano i nostri gusti e lì sono altre cose dove però bisogna riconoscere guarda questo è il mio gusto seguimi se non ti piace il mio gusto non seguirmi però in Italia se uno ha un gusto diverso dal tuo la cosa normale che viene è dargli merda a prescindere questa è una cosa che in Inghilterra non succederebbe mai altra cosa preparazione della sommellerie e rispetto verso la figura professionale del sommelier in Italia ancora se sei un sommelier ti ridono in faccia soprattutto se sei giovane o se sei una ragazza che è una cosa disgustosa la maggior parte della gente che si approccia ai ristoranti fa fatica a dare il rispetto che un sommelier deve avere voi non avete un'idea del rispetto quello che succede in Inghilterra è che tu hai questi collezionisti pazzeschi che vengono da te e ti chiedono ragazzi io queste bottiglie le voglio bere con voi perché io faccio il banchiere io non faccio il sommelier io ho deciso di devolvere la mia vita all'ufficio è un file excel voi vi spaccate il culo 12 ore al giorno per bere il vino quindi io la prima cosa che faccio è porto rispetto al vostro sacrificio questa cosa in Italia non esiste seconda cosa la preparazione della sommellerie la sommellerie in Italia non è preparata anche lì a causa dei preconcetti che ci sono in Italia me ne dico uno decantare in Italia non c'è una cultura di capire quando un vino va decantato in Italia non c'è una cultura di come un vino può essere servito e a quale temperatura oppure ci sono delle cose di servizio che sono molto antiche che rendono il servizio lento non lo so secondo me la sommellerie italiana ha uno stile che è veramente molto 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 antico basato sulla Francia ma senza capire lo stile francese è molto è una cosa molto particolare io quando faccio le masterclass per esempio ho fatto una masterclass a Modigliana dove praticamente io ho preso e ho detto ragazzi qua si doppio decanta tutto ma non è che si doppio decanta pian piano svuotiamo la bottiglia di violenza dentro il decanter e lo sbattiamo e vi cantate in testa tanti auguri a te tre volte prima di riversarlo dentro perché per esempio io ho un vino ridotto non lo bevo cioè viene qui cioè capite a volte noi decantiamo anche gli champagne quando ci viene chiesto ragazzi il vino va bevuto noi non l'abbiamo in Italia c'è anche questa cosa apri la bottiglia lasciala aperta per 4-5 giorni ma vaffanculo io sono al ristorante la voglio bere adesso la bottiglia non la voglio bere tra 5 giorni cioè cosa devo fare devo andare al ristorante chiamare 5 giorni prima e dire oh ma mi prepari sta roba noi abbiamo una macchina che si chiama Favine che praticamente mi decanta a seconda del tempo che io gli metto cioè io prendo la macchina e dico questo me lo decanti per due giorni la macchina parte in 5 minuti me lo decanta per due giorni il vino va servito in condizione ideale qualsiasi tool o marchigegno mi può permettere di dare la maggiore e la migliore esperienza al cliente io lo uso fine Nelson faccio giusto una precisazione per chi ci ascolta visto che non sono tutti proprio appassionati di vino e tu sei molto molto appassionato e sei andato molto nello specifico prima hai fatto il caso hai parlato del Sassicaia del bruciato per chi non è nel mondo del vino sono tutti grandi brand sono tutti vini prodotti da grandi brand che hanno fatto la storia delle loro denominazioni e nel mondo del vino in Italia come diceva Nelson ci sono sviluppate delle correnti di pensiero e di conseguenza di bevuta tra cui appunto li definisco in modo molto superficiale Eno Fighetti che mi sembra il gruppo a cui Nelson faceva riferimento e Nelson dice invece no il vino è uno mi piace considerarlo come uno poi starà ai vari palati dei consumatori decidere su quale vino indirizzarsi ecco quindi era semplicemente per fare un po' di chiarezza ti faccio una una provocazione Nelson però tu hai parlato dell'Italia quindi del mercato del vino italiano però non pensi che un club come Paul Mall sia molto più internazionale cioè io non penso che tu nel tuo club di Londra abbia soltanto locali quindi perché una città come Milano che sta diventando per quanto sia indietro anni luce su certi aspetti rispetto a Londra non pensi possa essere una città interessante per un progetto come il vostro perché comunque ha una clientela internazionale cioè non vive soltanto di consumatori locali non so se mi sono spiegato e si è afferrato la domanda partiamo dal business model partiamo dal punto che io devo trovare un posto a Milano lo devo comprare ci devo costruire dentro una roba pazzesca ok la devo riempire di annate vecchie italiane aperta parentesi non esistono quasi più perché nessuno salva il vino e qui dopo torneremo al discorso di verticale allo stesso tempo devo trovare una sommellerie che è internazionale in Italia chi è che li fa bere i vini del Cile chi è che li fa bere i vini americani chi è che li fa bere quindi se un cliente arriva e chiede una cosa al sommelier il sommelier non è preparato se io non ero preparato mi spaccava nel culo cioè questa è la cosa e quindi c'è una preparazione che deve essere richiesta che è un po' tosta nel senso che secondo me c'è una possibilità di un sistema Palmalli in Italia e ti giuro c'è stata abbiamo fatto qualche chiacchierata ogni tanto su questa cosa però la prima cosa che io mi devo assicurare è che i soldi mi ritornino cioè non è che io adesso apro un un locale che ha un certo tipo di spesa anche a livello di staff e di preparazione così a cazzo io devo avere un posto dove sono sicuro che il return on investment è dato per scontato cioè nel senso se io ti dico Palmall Singapore cioè tu ce li vedi io ti ho detto Palmall Singapore tu ti sei già immaginato una taula di piena di gente che sboccia la fit come fosse acqua vai cristal e poi con un grande rispetto verso chi serve immaginiamocelo in Italia se io dico si serve un Palmall Milano io mi immagino grazie imprenditori massimo rispetto che però arrivano e gli dicono ma beviamoci un Barolo eh no questo non è Palmall Palmall arriva al sommo e gli dice ma qual è il tuo Ravera preferito ah secondo te quindi Scavino ma senti non è che posso bere un 2011 Ravera di Scavino eh no purtroppo non è possibile perché ancora non lo produceva nel 2011 Scavino però quello che posso fare è possiamo trovare qualcosa magari in uno stile molto simile eh magari possiamo andare se perché ancora non ci sono tanti modernisti o qualcuno che usa la barrique in quel modo magari andiamo su uno stile un pochettino che ha un pochino più di estrazione prendiamo via e tira vera chi è che te lo fa una roba così in Italia ma stiamo scherzando io non l'ho mai visto poi me lo dite voi immaginatevi una cosa così che deve essere deve avere una translazione su tutto il mondo in cioè la Court of Master Sommelier in Italia non c'è ancora il WST sta arrivando adesso cioè quello che sta facendo Bianca Mazzinghi cioè gli dovrebbero fare una statua in ogni città cioè perché quella cosa lì ancora non c'era in Italia ragazzi cioè è una roba nuovissima cioè l'Italia che si apre al mondo è una cosa nuovissima poi deve farlo o non farlo possiamo aprire un discorso mostruoso perché secondo me c'è un problema di francofilia in Italia che fa paura cioè io personalmente basta lo champagne in Italia cioè si parla più di champagne che di Barolo ma è pazzesca questa cosa cioè noi siamo i primi per esempio in Italia noi siamo i primi ad odiare i vini che produciamo cioè c'è un interesse per quello che viene prodotto in Francia che se ce l'avessimo se avessimo un pochino di amor nostro cioè non dovremmo esportare così tanto e anzi potremmo veramente capire che cosa produciamo essere fieri cioè veramente poca fierezza di quello che si fa in Italia che è un discorso che a me è molto caro Sixthesame Palma al Milano è possibile è una cosa possibile però ti spiego come la vedo io Sixthesame Palma al Milano lo vedrei in questa ottica qua più come un posto che educa che un posto dove la gente accetta culturalmente quello che il locale rappresenta va te lo chiedo così guarda Nelson un po' di vino me ne intendo ma non ho neanche lontanamente la conoscenza che può avere Alessandro che sicuramente hai te e quindi ascoltare questo tuo punto di vista così approfondito così ragionato anche con un occhio così critico dal punto di vista del business mi sta piacendo veramente tanto e c'è un elemento che ho colto che mi sembra essere l'elemento chiave all'interno di Palmal ma dei club in generale che è proprio l'elemento della community delle persone che frequentano il posto e quindi vorrei approfondire proprio questo tema e chiedendoti un po' com'è che funziona questa community in che maniera vengono selezionate le persone chi può aderire una volta che si entra che tipo di servizi si ha si ha accesso cioè com'è che viene costruita questa forza poi del Wine Club la community parte da un ancora da un discorso culturale è un business è il business plan più semplice del mondo cioè se noi tre adesso ci mettiamo qua e voi avete aperto un podcast e chiaramente avete dovuto trovare una nicchia e chiaramente vi dovete chiedere ok quante persone realmente sono interessate a sentire uno stronzo come me che parla di queste cazzate non lo so però è un piano quindi il fatto cos'è la community nasce in realtà dal business plan prima c'è un interesse che può essere abbastanza importante da avere mille duemila persone chiuse in un posto che parlano di questa cosa a questo determinato tipo di livello perché insomma noi possiamo parlare di vino a livello tipo cioè vino di mio nonno viene a casa mia ce lo beviamo così nel bicchierino vino del supermercato vino che compro dalla cantina perché conosco il produttore vino di alta c'è vino vuol dire mille cose noi stiamo parlando di un tipo di vino che è vino collectors grandi discorsi che partono da terroir storia quindi è una nicchia nella nicchia della nicchia quindi tu ti devi assicurare che prima di tutto questa community esista perché non è che tu crei la community tu crei un posto che quella community deve immaginare come casa propria quindi questa è la prima base cioè Juicy Rap è una casa per chi è un appassionato di determinate cose che riguardano il mondo del wine and food ok poi andando dentro la nicchia dipende poi perché hai capito ognuno può ascoltare questa cosa o quell'altra quindi all'interno di chi è ascoltatore di Juicy Rap c'è quello più interessato al vino però quello che è più interessato al vino che vuole ascoltare Alessandro Morichetti grande Ale io quell'intervista l'ho ascoltata 50 volte c'è quello che è interessato a sapere magari qualcosa di più sulla cucina comunicazione o magari come il vino viene fatto è molto difficile capire quindi diciamo che la community di Six Seventh in Palmal include la vecchia scuola del grande collezionismo inglese delle grandi bombe cioè quelli che negli anni 80 già avevano capito che Bordeaux era una roba da tenere per 50 anni in cantina poi c'è il wine lover quindi Six Seventh in Palmal si è aperto tantissimo anche a quelli che vogliono imparare di vino e infatti ci sono tantissimi eventi che sono molto basati sul conoscere il vino i nostri la nostra Masterclass di Barolo le nostre single vineyard quando facciamo Long Live Burnello con Andrea Polidoro sono Masterclass per gente che veramente vuole capire cosa sta succedendo cioè Six Seventh in Palmal abbiamo quasi un evento due al giorno dove noi attivamente facciamo in modo che i nostri membri conoscano il più possibile il mondo del vino cioè è anche un posto dove tu hai tre piani piano eventi a piano di sotto ristorante e club e stiamo aprendo un altro piano e ogni piano ha una sua diciamo ha una sua vita diversa cioè di sopra ci vanno ci tendono ad andare diciamo più i wine lover cioè quelli che vogliono un pochino più capire o magari chi vuole avere un business o essere molto più tranquilli di sotto è molto più formale inglese vecchia scuola si aprono discrete bombe insomma ogni singolo non solo il team da respiri diversi ma anche ogni piano da un respiro diverso quindi è una cosa veramente magica e molto anche difficile da spiegare perché bisogna vederlo bisogna vederlo perché prima c'è il momento dove dici wow e poi c'è il momento dove un attimo ti calmi un attimo e vedi quello che hai again sono prezzi bassissimi noi il vino praticamente lo regaliamo cioè i prezzi sono molto vicini all'effettivo cost price o quello che si chiama market value ed è una cosa che è molto importante cioè Palmal nasce perché ai tempi uno facevi fatica a portarti le bottiglie da casa se le potevi portare pagavi un corkage cioè l'apertura della bottiglia pazzesco Palmal lo porta giù a 20 pound cioè prima di Palmal un corkage ti costava 50 60 pound dopo Palmal tu vai un giro a Londra e costano tutti i 20 perché abbiamo rivoluzionato quel mercato lì la cosa migliore è bere i tuoi vini cioè Palmal anche supporta il collezionismo tu puoi prendere e avere tra le 12 alle 500 bottiglie nel nostro storage e tu cosa fai? tu prendi da un'app sul telefono e dici ah io vorrei domani vengo a cena prendete questa bottiglia dalla mia cellar per favore decantatela in questa maniera oppure si va direttamente sul giudizio insomma si dice prego fate quello che volete voi in modo che quando io ho la mia bottiglia la mia bottiglia è pronta poi in Italia tornando al discorso di prima in Italia chi mai la farebbe una roba così? quale collezionista si metterebbe nelle mani di un sommelier a dire ragazzi fate voi o dite anche solamente pensare preparate questa bottiglia quando è pronta no? molto più a cazzo in Italia cioè stiamo parlando di un mondo parallelo quindi questo è più o meno tutto cioè la community in realtà esisteva già si esisteva in Palmal ha fatto in modo che questa community avesse una casa quindi un'altra cosa che si lega al discorso di prima dov'è questa community in Italia come possiamo crearla perché secondo me è un discorso di creare questa community e ci siamo molto vicini ragazzi secondo me cioè non è una cosa molto lontana prima di morire la vedremo senti ci hai detto difficile da spiegare ma almeno faccele inquadrare quanti membri ci sono all'interno del vostro wine club e se ci sono dei metodi con cui li contattate li informate sui sui nuovi tasting sulle sulle novità non lo so una newsletter magari ci sono dei metodi ancora più fighe chiaramente i membri cambiano a seconda del periodo perché noi abbiamo diciamo che non siamo mai non siamo mai sotto non siamo mai sopra cioè chiaramente una membership deve funzionare in modalità di quante persone si possono sedere quindi è sempre tra i 1500 e i 2000 cioè una cosa del genere non puoi difficile che sali sopra dipende anche dai periodi quindi bisogna un attimo anche capire come funziona il cash flow quindi perché chiaramente è un posto che vive tantissimo della membership tutti i club vivono potenzialmente diciamo la maggior parte dalle membership abbiamo una newsletter con cui le cose vengono informate diciamo che anche noi parliamo sui social ogni tanto per dire oh ragazzi c'è il nuovo c'è il nuovo evento di parolo o c'è Jasper Morris che torna dalla Borgogna usiamo tantissimo la nostra tv abbiamo anche una tv 67palmal punto tv che tra l'altro secondo me dovrebbe essere molto più vista perché i programmi di Jasper Morris e Jane Hanson sono pazzeschi andateveli a vedere tutto gratis per me è una follia che sia gratis quella roba lì sono vari metodi di promozione io per quello che posso dire è che come una masterclass esce sul sito va via al volo quindi c'è proprio ci sono un gruppo di intrippati che sono sul sito e controllano tipo una volta al giorno per vedere cosa c'è questo in realtà come funziona la maggioranza cioè il brand è talmente forte che la gente una volta al giorno passa per vedere sul sito cosa c'è compra i biglietti ci sono certe masterclass che noi abbiamo fatto che per forza abbiamo deciso di non promuoverle perché c'è talmente tanta gente che poi se mandi l'email ci sono più le incattature per dire ma come non ci sono più i biglietti quindi questo sistema diciamo si auto si auto finanzia da solo in una maniera perfetta devo dire quindi non nessun problema è molto più semplice del previsto in realtà ma quello ancora viene dalla community cioè se io ho una persona che mi segue e sa cosa rappresento e dopo sei a casa in un secondo Nelson puoi dirci anche come si sviluppa oggi il tuo lavoro visto che sei wine buyer e poi ci piacerebbe un racconto magari siccome sei stato anche il supervisor degli eventi del club se puoi anche spiegarci come viene preparato un evento perché parlare di evento visto quello che ci hai detto anche prima mi sembra un po' riduttivo e visto anche il fatto che secondo me alcuni vostri membri visto l'importanza del club si aspettano comunque sempre l'esperienza quella con la E maiuscola quindi se puoi raccontarci tutto quello che avviene prima dell'evento mi sono domande che mi devo strutturare nel cervello capito quindi è una roba che mi credevo molto più intelligente di così ma in realtà allora fare il buyer in realtà è molto più excel di quello che vi potete credere in realtà la maggior parte è capire quando arrivano delle cantine quindi oh questo collezionista ha detto che decide di vendere tutto boom mi arriva un'email devo essere il primo a rispondere a prendere il più possibile quindi questa è una chiave importantissima del mio lavoro cioè fare in modo che quando una cosa esce fuori boom io sono lì perché poi tra l'altro su queste cose si creano le inflazioni di mercato adesso vi racconto una storia abbastanza tragica ma che però vi dà un'idea la maggior parte dei vini che vanno in release che diciamo muovono il mercato secondario sono quelli che chiamano the widow wine la prima regola in inghilterra è che tu non devi mai dire a tua moglie quanto spendi in vino quindi cosa succede? succede che quando muori molto probabilmente tua moglie non saprà mai quanto vino c'è quindi il supplier va dalla moglie dicendo guarda il suo marito c'è una cantina da 4 milioni di pound le moglie dicono ma cosa? quindi le moglie prendono e dicono guardate vendete tutto nel 2001 con il crollo dell'elettorio di gemelle c'è stata un'inflazione pazzesca di mercato perché molte persone che lavoravano nell'elettorio di gemelle erano collezionisti quindi ci sono state delle bottiglie di cui il prezzo è crollato immediatamente per questa cosa quindi c'è anche una parte di investment che bisogna conoscere che è pazzesca che è un'altra cosa che molti mi chiedono quindi chiunque abbia delle domande su investing il mio instagram è sempre aperto at Nelson Pari non sono sempre libero però mi fa sempre piacere parlare di queste cose perché sono pazzesche quindi cosa succede quando arriva una cantina boom di cui io voglio questo 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 faccio per esempio si è aperto una cantina ieri che rilasciava due casse di Rinaldi 1970 questi qui è gente che si è retenuto lì non l'ha detto a nessuno boom rilascio qual è la cosa divertente è che non c'è un prezzo di mercato per Rinaldi 70 quindi chi me lo vende mi setta il prezzo di mercato poi sono io che devo decidere capire quante persone sono interessate quindi devo stare io al prezzo di mercato possiamo avere una discussione riguardo a questa cosa e in quel momento divento io che sono un inflazionatore di mercato quindi quella è una parte importantissima del lavoro la seconda è controllare il bilanciamento della lista quindi praticamente devi sempre capire devi buttare un occhio ogni tanto e dire cosa manca manca Sancer boom quindi devi sapere quali sono i top producer di Sancer che ci devono essere sempre devi sapere quali sono le annate e lì anche è un discorso di ok quanto bene conosco i supplier quanto bene conosco tutti i brand ambassador quindi è a metà tra il PR il negoziatore FBI e poi tanti Excel proprio tanti tanti Excel poi c'è la parte di capire i club quindi adesso sto curando specialmente la TV e ho finito adesso di fare una preselezione per il club di Verbier in Svizzera e stiamo guardando con la coda dell'occhio Singapore Singapore siamo in tanti quindi almeno lì c'è un pochino di rilassamento ma ti faccio per dire che apri un club e tu devi fare una lista da zero in Svizzera come fai? e poi cosa succede? che arrivano i primi clienti e i primi clienti settano la struttura di come quel club andrà perché io cosa ne so se in Svizzera va più il vino svizzero o la Borgogna o Bordeaux o il vino italiano io non so niente devo aspettare che il pubblico arrivi per poi prendere il dato quindi tu parti in una serie di vici mettiamo su tutto e poi iniziamo a studiare quindi c'è anche uno studio di clientela che è chiaramente molto forte e poi devo anche capire un'altra cosa quanto queste persone sono disposte a spendere cioè a quanto mi conviene prendere una delle mie riserve di Romane Conti e mandarla a Verbier piuttosto che tenerla a Londra e quelle sono delle domande molto importanti da farsi poi eventi secondo me la maniera migliore per spiegarvi un evento è che vi prendo un esempio di un evento che abbiamo fatto e vi racconto come si struttura vi racconto uno dei più folli che ho fatto abbiamo fatto una verticale di Gaia barbaresco uno dei primi fatti con Gaia Gaia allora voi mettetevi nella testa di Gaia Gaia cioè Gaia Gaia è una professionista la cosa principale è che ed è una regola non ti devi fidare di nessuno mai fidarsi di nessuno perché tu non sai mai che cazzo può succedere a qualsiasi momento a qualsiasi istante quindi lei essendo una professionista col cazzo che si fida si dico tranquilla va tutto bene partiamo dalla base la base è noi siamo i primi che vogliamo mettere a loro agio i produttori si mettono a loro agio in una maniera se tu pensi che la bar of expectation di un producer è al 50 noi la spingiamo al 200% come faccio io a prendere e a dare a Gaia Gaia un 200% la prima cosa che posso fare è avere la più grande riserva di zalto burgundy glass mai usata in una verticale di Gaia barbaresco immaginatevi 60 persone ognuna di loro ha tra i 12 e i 20 burgundy zalto glass io ve lo giuro immaginatevi cosa vuol dire vuol dire che io devo chiamare zalto bloccare la produzione di zalto e dire voi adesso fate questo e me lo mandate subito quindi si telefona a zalto e si dice ok noi abbiamo questa masterclass di Gaia abbiamo bisogno di questo numero di bicchieri voi ce li producete ce li mandate io li devo avere questo giorno quindi la prima cosa è io devo sempre controllare che i bicchieri dove sono i bicchieri io ogni giorno mi alzo e devo vedere dove cazzo sono questi bicchieri seconda cosa procurare mat quindi fare tutti i mat dove metti i bicchieri devono essere perfetti e precisi perché? perché devi farli della misura perfetta in modo che i bicchieri non si scontrano tra di loro e che la forma tonda ripresenti esattamente la forma del bicchiere selezionare tutte le annate controllare come sarà preso poi iniziamo a prendere bisogna pulire la stanza e decidere il setting il setting sarà in forma verticale o in forma orizzontale perché chiaramente la stanza cambia a seconda di come metti i tavoli decidiamo per la forma più lunga quindi praticamente sono quattro tavoli splittati in orizzontale perché dà più idea di profondità che a noi ci piace perché? perché un produttore si sente un pochino più capito devi camminare prima in mezzo da questa platea di gente è una figata insomma il sistema che usiamo per Jane e Jasper è bellissimo usiamo anche noi quindi è bellissimo cammini lì va in giro è una figata partiamo con questo noi adesso cosa abbiamo bisogno? abbiamo bisogno di capire adesso e confermare con Gaia Gaia questo è quello che succederà questi sono i vini noi di solito lasciamo i mat a loro piace avere i tag quindi cosa vuol dire? dobbiamo preparare quanta gente ci vorrà per prendere tutti questi bicchieri toglierli dalle casse rilavarli ripulirli metterli lì dentro e prepararli nelle casse la sera prima allo stesso tempo abbiamo bisogno di qualcuno che rimanga lì fino alle 3 di notte molto probabilmente sarò io a sistemare la sala controllare che tutto è perfetto e poi magari io alle 8 vado a ricontrollare perché non sai mai dal panico quello che succede poi è controllare che i vini siano arrivati controllare che i vini siano precisamente nelle indicazioni che vengono dati come questi vini devono essere conservati a quale temperatura in quale frigo volete che siano nel frigo volete che stiano nella nostra cellar per quanto tempo devono stare nel frigo per quanto tempo devono stare nella sella non sono arrivato neanche l'evento non è ancora partito poi andiamo iniziamo a pensare a quanta gente ci serve mentre facciamo servizio quante persone ci servono per fare in modo che ognuno ha esattamente il numero preciso di vino quando il vino deve essere servito possiamo magari versarlo prima o dobbiamo versarlo mentre Gaia Gaia parla mentre Gaia Gaia parla poi dopo dobbiamo darci nel caso dei codici in cui lei ci dice versate il vino perché fa un po' brutto dire ragazzi potete versare il vino ci deve guardare e dire vai e tutto il team con la mia disposizione sa che in quel momento si parte e io devo controllare anche che nessuno metta il vino nel bicchiere sbagliato che voi dite eh minchia vabbè la base però quando tu sei in mezzo al delirio la tua testa non avete un'idea su questi high pressure event la tua testa quanto va a mille gli errori capitano e capitano molto più di quello che possiate pensare altra cosa magari Gaia Gaia arriva vede non è successo però capita un sacco non avete un'idea soprattutto quei francesi loro guardano la stanza e dicono molto bello però magari cambiamo l'ordine dei vini tu non puoi dirgli di no quindi cosa vuol dire bisogna andare a rifare il print di tutti i mats togliere tutti i bicchieri togliere tutti i mats rimettere tutto perfettamente ci vogliono due ore con quattro persone è una roba è una roba tosta eh e capita la cosa dopo è chiaramente controllare se le bottiglie sono in perfetta condizione o no esempio se una bottiglia è corcata noi come facciamo noi chiediamo sempre bottiglie reserve metti che queste bottiglie non ci sono come cazzo faccio devo avere nomi di tutti i supplier che possono darmi quelle bottiglie in meno di due ore quindi anche lì c'è una parte di tempo dove magari si passa e si controlla un attimo e si dice vabbè ok metti che questa cosa non c'è come facciamo perché vi dico ci sono degli eventi che vengono fatti dove magari tutte le bottiglie sanno di tappo e come fai? insomma arriva l'host quindi devi fare in modo quindi arriva Gaia Gaia ti presenti dici guarda questo qui è com'è tutto boom 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 e poi si parte con l'evento quindi è tutto un è tutto un controllo 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 tutto è una roba maniacale maniacale chi è che può farlo un lavoro così nel mondo quindi per me è stato un onore a fare due anni a fare questo lavoro è stata una cosa dove ho imparato tantissimo buto delle bombe prima che ho fatto è stato Shab una verticale di Shab con Shab pazzesco abbiamo aperto 82 84 e tu sei lì capito e dici ma come cazzo è possibile ogni giorno ti trovi il meglio del mondo che parla con te è una figata è stata veramente una gran figata adesso io mi godo i miei file Excel e magari faccio meno ore di quelle che fa correntemente il buon vecchio Federico Moccia è bellissimo perché quando ti ho fatto la domanda ho parlato appunto di esperienza e l'hai resa alla perfezione quindi quanto nel mondo del lusso del fine wine sia importante che ogni parte di questa esperienza venga preparata analizzata studiata e poi messa in pratica e a proposito di esperienza siccome il club non ha chiuso durante la pandemia e la pandemia è stata piuttosto duratura ci puoi raccontare in breve come avete affrontato la pandemia come avete affrontato gli eventi durante la pandemia visto che comunque il vino lo hai detto più volte con vigalità dibattito confronto quindi come avete strutturato questa esperienza in pieno lockdown se voi ci conoscete già sapete che il mondo del vino le famose boccette i primi a farli siamo stati noi vi racconto la storia la storia è parte il lockdown e io mi ricordo già Grant in ufficio che era lì che dice oh minchia Grant ti dovresti cagare in mano perché sei così tranquillo e lui c'ho un piano c'ho un piano io quando Grant ti dice c'ho un piano mi cago addosso generalmente perché vuol dire che lavorerò come un matto e quando lo vedo che qualcosa è un genio è un genio assoluto ma però è molto la Steve Jobs cioè nel senso che Steve Jobs prende e dice ah io voglio tutta la musica qui dentro va a vedere un telefono ci sono tanta stronzi che si mettono lì essendo io uno di quegli stronzi sto sempre sull'allerta però è stato un genio perché lui ha preso e ha detto ragazzi imbottigliamo il vino subito dopo una settimana di lockdown noi avevamo già i kit e li avevamo spediti uno in Nuova Zelanda America Germania a tutti i master wine per controllare se queste bottigliette effettivamente funzionavano e poi subito dopo ci siamo costruiti un acquario cioè voi immaginate un acquario è un peccato adesso non posso fare il gesto a voi che ascoltate di io che metto le mani dentro un acquario chiuso in Argon quindi praticamente noi ci troviamo cazzo ne so perché noi non è che abbiamo iniziato easy cioè dici vabbè in bottiglio facciamo i vini da 10 euro no 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 verticali 89,90 first growth quindi Mouton Lafitte La Tour però tu non puoi aprire queste bottiglie e lasciare respirare acquario completamente pieno di Argon mani dentro con i guanti apri la bottiglia la riversi la assaggi quindi abbiamo assaggiato di tutto la riversi in 10 boccette ugualmente quindi abbiamo tutti i calcoli cioè sembravano tipo breaking bad per esempio di quelli che fanno la droga è uguale e praticamente ci mettiamo lì e poi si rimbottiglia quindi il vino dall'uscire dalla bottiglia rientrare dentro la bottiglietta di ossigeno ne vede zero zero pazzesco e quindi lì è arrivato il delirio è arrivato il delirio perché noi lavoravamo un casino perché hai un team di imbottigliamento e il team a casa di cui io facevo parte deve fare masterclass noi facevamo 5 masterclass al giorno con tutti i più grandi winemakers del mondo ed è qui che finalmente mi trovo con grande orgoglio a raccontarvi che tutti i paesi del mondo hanno affrontato le nostre telefonate con un entusiasmo pazzesco a parte un paese secondo voi qual è questo paese? secondo me la Spagna no ovviamente l'Italia ovviamente è l'Italia io ho fatto una figura di merda perché chiaramente ci guardano e dicono eh Federico e Nelson gli italiani 67 trovateci mi chiamavamo diciamo ragazzi pandemia totale che erano tutti su internet infatti ho scritto un articolo su questa cosa su Wine Surf e tutti quanti mi hanno dato più ragione che infamare quindi sono contento e erano ricordate che c'erano tutti i produttori a piangere oh mio Dio il filo cosa faremo io iniziavo a fare queste telefonate dicendo noi qua zero budget cosa facciamo nessuno ci ha detto di sì poi cosa è successo Arlam Estate ha detto di sì Angelus ha detto di sì cioè poi tutte le first growth con Jane Hanson tutti questi tasting incredibili e tutti quanti hanno iniziato a bussare la porta cazzo troppo facile perché questo è anche un grande segnale di cosa vuol dire di qual è l'Italia del vino che l'Italia del vino arriva e ti bussa la porta quando vede che già gli altri ci hanno fatto successo l'Italia del vino non è capace di uscire con un progetto e dire cazzo grande idea si cagavano le telefonate che ho fatto io tutti quanti sì vabbè ma no ma le boccette e adesso tutti a fare le boccette io ce l'ho molto dentro questa cosa qua prima masterclass italiana che abbiamo fatto e qui voglio mandare un abbraccio enorme ad Andrea Polidoro che è stata a Cupano Cupano è andata sold out 60 ticket ragazzi 60 ticket in 30 minuti potevamo farlo con qualsiasi produttore era proprio il fatto che la gente voleva bere Italia voleva bere è stato un gran peccato io ci ho sofferto tantissimo perché io alla fine sono molto in Italia soprattutto quando parlo sono sempre molto su lista italiana deve essere io farei solo liste locali io se vado in Piemonte difficilmente mi bevo vini di altri posti a meno che non ci sia Alessandro Morichetti questo voglio dire però insomma è una cosa che io soffro tantissimo e per me fare queste telefonate chiedere e quindi ci sono io me li ricordo tutti quelli che hanno detto di sì per primi e sono grato a tutti loro quindi sapete chi siete perché avete partecipato sono molti più di quello che voi possiate immaginare questi produttori ma non abbastanza rispetto a quelli degli altri paesi che è veramente un grandissimo peccato Nelson quindi fondamentalmente l'esperienza consisteva in masterclass condotte da te o tuoi colleghi dove voi mandavate queste famigerate bottigliette da quanto? da quanti ml? sono 75 quindi insomma è anche una quantità importante che ti permette la degustazione assolutamente e quindi avete vinto la pandemia in questo modo infatti è questa modalità che vi siete inventato ed è stata assolutamente replicata anche da tantissimi altri produttori stessi che in questi mesi hanno condotto masterclass in tutto il mondo purtroppo noi produttori di Lambrusco non potevamo farlo per ovvi motivi ecco una roba pazzesca mi piace vedere quando si risponde dalle difficoltà con creatività e spirito di iniziativa e stiamo arrivando verso la fine dell'intervista e finalmente andiamo a toccare un tema di cui abbiamo parlato accarezzato per tutta l'intervista ma non ci siamo mai focalizzati e vogliamo parlare appunto del tema di vino e comunicazione qua come un po' per tutta l'intervista siamo tuoi ospiti quindi ti lascerei avere carta bianca prima abbiamo citato sicuramente la tua esperienza con Winesurf e dell'ultimo progetto verticale quindi ti chiedo un po' di raccontarci la tua idea sulla comunicazione del vino qual è la maniera migliore secondo te di comunicare il vino e poi naturalmente di parlarci di queste tue due esperienze allora cambia da paese a paese nel senso che secondo me l'Italia diventerà molto simile a noi UK col passare del tempo perché deve cambiare la modalità con cui si parla del vino questa è una cosa di base è cambiato anche il ruolo secondo me io penso di aver imparato da Jasper un sacco e da Jane perché le loro masterclass noi in Italia abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica cosa fare questo è la vera grande realtà cioè noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica ogni cazzo di secondo cosa dobbiamo bere come dobbiamo berlo abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica quali profumi dobbiamo trovare e questo c'è sempre in Italia c'è un linguaggio noi abbiamo una lingua meravigliosa quindi giustamente c'è uno studio storicamente su quanto la nostra lingua può interpretare questo linguaggio c'è un backlash cioè nel senso che a una certa c'è un problema che la nostra lingua è talmente ricca che chiude la possibilità a qualcuno di veramente imparare o diciamo di fruirne nella maggior parte io sono sempre stato diciamo non un grande fan di questo tipo di comunicazione perché una volta che noi parliamo di un linguaggio di base una volta che tu sai cosa sono i tannini una volta che sai cosa sono le acidità quello che cambia tra noi ragazzi è solo l'esperienza però anche l'esperienza è una cosa che tu ti vivi talmente sul personale che è molto difficile fare un'argomentazione su chi ha ragione sull'esperienza in realtà ci stiamo solo scambiando informazioni cioè io la vedo così una masterclass in realtà è come Wikipedia solo che tu stai parlando con 500 pagine di Wikipedia diverse e devi cercare di parlare con tutte secondo me la comunicazione per come la vedo o per come la uso io è stata come abbiamo fatto nell'ultima masterclass in Modigliana io ringrazio chiunque è venuto è stata una roba pazzesca Emilia Romagna una masterclass su Modigliana 120 persone la vita è stata questa io ho detto ragazzi per le masterclass come le facciamo noi io riesco a gestire 45 persone Melandri mi ha guardato e mi ha detto si vai tranquillo arrivo 120 mi sono cagato addosso ragazzi cioè come fai tu devi dare alla gente le chiavi per interpretare una cosa vi faccio un esempio beviamo insieme è un vino che possiamo berci insieme ok ci stiamo bevendo insieme un lambrusco di sorbara facciamo il falistra ok di podere il saliceto cosa ci interessa sapere come funziona il sorbara il sorbara è una pianta che fa fatica a fertilizzarsi da sola quindi tu hai bisogno di piantarla a volte a diciamo a file diverse quindi di avere un sorbara e magari mettere il salamino insomma in modo che arriva un po' di fertilizzazione insomma quindi ti dà un'idea di un'uva che soffre cioè ti sto già raccontando che la storia dell'uva in sé si racconta così il sorbara ha una storia dove si parlava di rifermentati fino a un totti tempo fa i rifermentati sembrano essere oggi la way to go di quello che può essere il sorbara raccontiamo allora a questo punto che cos'è un rifermentato poi raccontiamo di dove ci troviamo ci troviamo in un posto veramente dove è tutto molto dritto cioè difficilmente vedi insomma delle pendenze quindi è anche un'agricoltura che ci racconta una storia molto particolare e di quantità più che di qualità quindi iniziamo a raccontare da dove la qualità arriva la qualità arriva da lavoro in vigna e da lavoro in cantina iniziamo a spiegare come è fatto questo vino in entrambe le parti poi quando andiamo ad assaggiarlo a me la cosa che vi interessa è voi cosa ne pensate e questo è un discorso che io ho fatto su una cosa che adesso non ho più tempo per portare avanti avevo questo piccolo progetto chiamato degustazione tecnica c'è qualche episodio su youtube per bere un vino seriamente tre ore è il minimo indispensabile per capire cosa veramente stai bevendo e questo è un vero grande problema se noi vogliamo fare veramente una comunicazione di livello bisogna dare le chiavi di lettura ma purtroppo queste chiavi di lettura se vogliamo veramente capirle hanno bisogno di almeno tre ore se invece vogliamo fare un discorso di diciamo capire un'area bisogna iniziare a capire quali sono i produttori che possono permettersi di parlare di un'area perché facciamo l'esempio del Lambrusco quanti sono in realtà in Lambrusco quelli che possono veramente definire un territorio prendiamoli e cerchiamo di incasellare un discorso dove tutto quanto ci porta a capire un'analisi all'interno di tutto questo la chiave è spiegare con meno parole possibili nel più corto tempo possibile che va in completa contraddizione con quello che ho detto prima quindi questo è il grande problema della comunicazione del vino tu hai bisogno di tre ore per spiegare un prodotto ma come facciamo a spiegarlo in cinque minuti quindi la mia ricerca è basata principalmente su questo secondo me nella maniera in cui si spiega è concetti base e lasciare la parola agli altri cioè ti faccio un esempio a Modigliana quello che ho fatto è stato ok qual è la chiave di Modigliana il bosco spieghiamo come funziona un bosco l'altitudine spieghiamo come funziona l'altitudine l'altitudine noi possiamo fare mille pugnette raccontare l'altitudine è molto semplice raggi ultravioletti cosa succede in raggi ultravioletti rispetto a est o a ovest seconda cosa è si perde 0.6 di grado o di altitudine ogni 100 metri fine cioè non è che ci sono tante cose da raccontare poi iniziamo a spiegare come funziona un ecosistema di un bosco e cosa ti può dare e quali sono le ricerche dei nutrienti quindi iniziamo a vedere cosa succede tipo fosforo tra una zona che non ha il bosco e una zona che la ha per spiegare queste robe in realtà ci metti 5 secondi ma nel momento in cui ti ho detto questo io ti sto chiedendo queste cose che io ti ho detto le puoi mettere dentro il bicchiere questo secondo me è qual è un piccolo futuro io per questa cosa qua dico sempre ci sono due libri questo non fa parte della piccola pesicceria però sono un grande fan della piccola pesiccera ragazzi io le leggo tutte le cose che la gente consiglia le guardo subito Inside Bordeaux e Inside Burg quindi di Jane Ansel e Jasper Morris comprateli leggeteli quello secondo me è un inizio di come in realtà dobbiamo iniziare a vedere le cose quindi questo secondo me è la cosa a livello comunicativo verticale secondo me è la cosa a cui io sono più affezionato adesso io durante il lockdown ho preso e avevo fatto questa battuta dicendo cazzo se facessi qualcosa nella vita vorrei farlo con Jacopo Gossater e Matteo Gallello prima di tutto perché io sono molto più stupido di loro sono molto meno intelligente di loro Matteo ha una sensibilità che io non ho Jacopo Gossater è un genio della comunicazione io penso di aver capito come spiegare un territorio a una niche molto tecnica di vino ma sul grande pubblico quello che ha fatto Jacopo Gossater per accrescere la cultura del vino in Italia è pari a veramente pochi la cosa fondamentale che se voi fate la domanda di cosa verticale rappresenta per te noi tre escono fuori domande completamente diverse per me è un archivio storico che parla prima ai produttori e poi ai collezionisti è una provocazione sulla qualità del vino italiano e il rispetto che deve avere nel confronti del mondo ed è per me io questa rivista l'ho fatta per un motivo io volevo leggere qualcosa e in Italia non c'era un cazzo da leggere che mi piacesse veramente con cui io potessi dire dai bisogna dare la vita per qualcosina non c'è niente che vale la pena lottare oggigiorno io voglio vedere qualcosa per cui vale la pena lottare e secondo me questo è un progetto che racconta di questa cosa perché io volevo leggere qualcosa che accrescesse la mia cultura del vino se vi siete abbonati a Verticale io vi dico la più bella Verticale che c'è sono la Monica Coluccia Matteo Gallello e Paolo Di Cristoforo che fanno il greco di tuffo miniere di Angelo Muto in quella Verticale si pospone il mio sogno di quello che rappresenta Verticale perché vi assicuro che leggere quella Verticale è molto meglio che assaggiare il vino e questo per me deve essere un obiettivo di lettura molto importante Nelson mi sono divertito un sacco veramente e visto che l'hai evocata ormai decine di volte siamo arrivati al momento della piccola pasticceria quindi è il tuo momento dai il via ai tuoi consigli sai già perfettamente come funziona quindi non dico altro la piccola pasticceria è una figata vi spiego perché secondo me la piccola pasticceria è una figata perché alla fine a parte delle esperienze siamo quello che guardiamo ascoltiamo e leggiamo quindi la maniera migliore per capire qualcuno è chiedergli ma tu dove cazzo vieni fuori perché ti giuro l'esperienza si fa sul campo lavorativo ma anche il campo lavorativo è fatto tanto di lettura ascolto e visione e questa per me è una cosa veramente importante io mi sento dato che sono un grandissimo fan di fare pure la contro piccola pasticceria cioè cose che rimangono solo su questa interview e non sulla piccola pasticceria su Instagram perché quando la gente mi chiede la gente mi chiede ma chi sono i tuoi maestri ma chi c'è stata una cosa tipo ma da chi ha imparato io in realtà ho pochissime persone nel mondo del vino che fanno parte del mio background cioè il mio background è completamente diverso il mio background viene da tre cose la prima è Massimo Fini che è un giornalista italiano scrive adesso sul Fatto Quotidiano la leggenda narra che Montanelli quando morì prese le sue due ispirazioni e le trasferì su due personaggi diversi diciamo che la parte analitica fu data a Travaglio la parte del rompicoglioni fu data a Massimo Fini Massimo Fini ha scritto un libro ha scritto tantissimi libri io consiglio di leggerli tutti da economia a storia medievale delle cose delle biografie che ti distruggono il cuore ma la più bella è la biografia di Catilina di Massimo Fini per me assolutamente obbligatoria anzi sai cosa è talmente obbligatoria vi leggo magari qui un esempio racconta la storia di Marco Tullio Cicerone adesso ditemi se non è meraviglioso allora Marco Tullio Cicerone era nato ad Arpino il 3 gennaio del 106 due anni dopo Catilina da una famiglia benestante della piccola borghesia provinciale pare che il suo cognome derivasse da un avo che aveva sul naso una protuberanza molliccia a forma di cece cicero in latino questo cognome procurava al piccolo Marco Tullio facce di canzonature da parte dei coitanei soprattutto a scuola dove andò assai presto rivelandosi subito un primo della classe studiosissimo diligentissimo 10 in condotta e come ogni primo della classe che si rispetti leccava il culo al maestro e non dava da copiare i compiti ai compagni che si vendicavano facendo gli scherzi feroci e sadici come usano i ragazzini cioè per me il fatto che qualcuno ti spieghi una storia facendoti perché questo è umanizzare il tuo interlocutore o di chi stai parlando cioè il fatto è che quando noi studiamo la storia lo stile con cui va raccontata secondo me deve essere questo perché alla fine Cicerone era probabilmente uno no probabilmente era un essere umano come noi molto probabilmente era pure uno stronzo quindi a me sai io ho sempre avuto questo esempio quando ero al liceo io ero un grande lettore di Seneca ok poi ho letto la biografia sempre di Massimo Fini di Nerone e ho capito che Seneca come essere umano faceva cagare al cazzo quindi perché io devo leggere delle cose meravigliose scritte da qualcuno che poi in vita non è riuscito a farle non ha tanto senso e a me questo modo di interpretare la storia e anche cioè ti fa capire anche come magari ci dobbiamo comportare noi e io ogni volta che scrivo penso boh cioè rappresento veramente quello che è stato quello che è stato scritto da me stesso medesimo qui quanto è in realtà reale quello che ho scritto ed è una cosa che su verticale io mi chiedo costantemente quindi questa è la mia prima grande influenza quindi Massimo Fini e Cattilina primo libro backup la seconda influenza che devo dire per me assolutamente cioè top del top io sono un grande purtroppo per la mia ragazza sono un appassionato di videogiochi da fare cagare cioè io ragazzi gioco come un pazzo uno dei più grandi scrittori moderni è questo non è uno youtuber è un ex giornalista di altissimo livello secondo me si chiama Tim Rogers ha un canale che si chiama Action Button dove fa queste recensioni di ore ha fatto un decalogo di Cyberpunk 2077 di 10-11 ore e però la sua secondo me il suo masterpiece il suo capolavoro è la recensione di Doom il primo originale degli anni 90 dove racconta per esempio quali sono state le ritorsioni su Doom ai tempi dell'esparatoria della Columbine cioè per me sono cose pazzesche e anche conoscere il design cioè i videogiochi hanno un design che tu devi capire e io non riesco a capirlo mi fa essere super stupido e a me io il design è una cosa che a me fa impazzire terzo libro secondo me il più grande scrittore Lester Banks per chi vuole conoscerlo diciamo in una maniera più pop c'è praticamente un film che è un capolavoro che si chiama Almost Famous è praticamente la storia delle Zeppelin però l'ho spiegata tramite un ragazzino fan che entra col giro delle gruppi a conoscere questa band che si spascia prende e il lavoro di questo ragazzino è scrivere un articolo per Rolling Stones su questa band con cui è in tour quello che succede è che il ragazzino non avendo essendo il suo primo lavoro costantemente chiama Lester Banks per consigli Lester Banks ha scritto un libro cioè no ha scritto lo scrive su una rivista chiamata Cream e quello che è successo è che i suoi editors hanno ripreso tutta la collezione dei suoi articoli e li hanno messi in un libro che in italiano ho guardato adesso si chiama Guida ragionevole al frastuono più atroce e ho detto tutto all'interno di questa collezione c'è forse uno dei più grandi io difficilmente piango leggendo non è una cosa che mi è mai successa mi è successa leggendo la recensione di Astral Weeks di Lester Banks che è contenuta mi pare nella prima sezione di questo volume monumentale parla talmente tanto dentro alla tua anima che è una cosa veramente pazzesca quindi vi consiglio di leggerlo fortemente e quando dicevo del miniere quando dicevo del miniere con Paolo Monica e Matteo quello per me è un po' dove vorrei arrivare io con questa rivista cioè per me questa rivista può diventare per qualcuno che la legge quello che per me è stato Astral Weeks di Lester Banks io spero un giorno il mio obiettivo è di arrivare un giorno a scrivere qualcosa che possa essere della grandezza di quella recensione veramente è una cosa di cui io lo leggo una volta all'anno perché ho paura di leggerla troppo da quanto è bella perché ho paura proprio di rovinare il senso delle parole quindi devo tenere un distacco è una cosa che ho anche tipo con i film a Marcordi Fellini lo vedo una volta ogni 5-6 anni voglio avere un distacco emotivo che mi permette un attimo di tenere ragazzi bisogna ascoltare il più grande album di tutti i tempi Unplug di New York di Nirvana forse uno un album registrato a cazzo di cane strumenti compratili sul momento perché nessuno gli sbatteva il cazzo una carica di violenza cioè lì veramente dire guarda io non ho neanche più un corpo parla direttamente la mia anima per me è meraviglioso uno dei più grandi album mai fatti in Italia è nascosto ai più ed è per un amico della premiata forneria Marconi se io posso lasciarvi con qualcosa che migliorerà voi stessi come esseri umani è quello di ascoltare per un amico della premiata forneria Marconi come terzo album mi trovo qui a raccomandare Magica Musica di Andrea Veneros l'immortacci sua grande Veneros io ho questo sogno e conosco Andrea molto bene e lui ha sempre avuto questa cosa di ha sempre dovuto dimostrare tanto a se stesso e secondo me arriverà un momento in cui dovrà fare una scelta drastica e io so già che in quella scelta drastica faremo una band vecchio stile dell'ACM dei nostri vecchi tempi di quando avevamo 20 anni un album cioè un album senza tour io mi immagino un album di Veneros senza tour con Filippo Cimatti Danilo Mazzone uno dei più grandi pianisti secondo me che abbiamo in Italia Luigi Casanova a me va a chitarra e Filippo Cimatti in production secondo me sarà una figata Andrea lo sai che succederà vaffanculo quindi ascoltate Magica Musica di Veneros secondo me è un album che ha veramente tentato di fare troppo in un posto che vuole fare molto poco quindi questo secondo me è la mia anti piccola pasticceria perché per me sono cose meravigliose che in realtà fanno c'è molto c'è tutto il mio stile praticamente in queste cose secondo me perché lo sai cos'è una cosa che mi fa incazzare tipo la gente sa che io parlo di vino e se mi trovo a raccomandare altre cose uno dice ma che cazzo è ma vaffanculo quindi per me dato che parliamo di vino la mia piccola pasticceria deve solo parlare di vino chiaramente e allora io sono molto cattivo perché secondo me il vino non ha né letteratura né cinema che valga la pena di vedere e vi spiego il perché allora partiamo da una cosa di base se il vino non lo bevi che cazzo di senso ha a legger quindi se se leggiamo di vino ci deve essere uno scopo per cui noi ne leggiamo verticale fa parte di uno di questi scopi per esempio la quale è il problema del mondo del vino tecnicamente è una il mondo del vino cambia troppo rapidamente qualsiasi libro voi possiate comprare dopo due anni non vuol dire più niente pensate a questa cosa io negli ultimi tre anni ho studiato l'Austria 15 volte l'Austria come legislazioni le loro corrispettive di OCG di OCG sono cambiate un centinaio di volte hanno fatto milioni di cambiamenti nuovi sviluppi ragazzi tra qualche anno noi ci berremo il Sangiovese dell'Astiria e la gente in Chianti Classico inizierà a cagarsi addosso e inizieranno a fare pure una DAC per quello quindi cioè ci sono una serie di cose cioè ci sono dei posti pensate a Sonoma County quanto cazzo è cambiata negli ultimi anni pensate a quante single vineyard sono uscite cose pazzesche quindi qualsiasi cosa voi possiate leggere del mondo del vino è già antiquariato dopo pochi mesi quindi il mio primo consiglio è una subscription a gilson.com il più grande sito mai fatto per professionisti del vino sono delle guide anche relativamente corte vi possono permettere di passare se le studiate correttamente sia il Certified della Court of Master Sommelier sia l'Advanced e vi aiutano tantissimo con Diploma e Master of Wine è il sito più incredibile che potete trovare tutto aggiornato 24 ore su 24 cioè c'è questo cambiamento boom su Gilson c'è subito guide che ti danno anche l'essenziale in Italia noi leggiamo un sacco di robe dove c'è troppo su troppo su troppo Gilson ti dice esattamente come la pugnetta cioè si parla solo di cose che puoi mettere su carta ovunque quando parliamo di vino quello che penso io di un vino è diverso da quello che pensi tu però se la legge dice qui ci sta 60% Chardonnay e 40% Pinot Nero quello è cioè non è che ti puoi inventare più di tanto la legge è scritta sulla pietra quindi Gilson parla di quello è una guida perfetta ti dà tutte le chiavi per qualsiasi territorio un sacco di gente mi dice ma che libri devo comprare basta comprare una subscription a Gilson e poi memorizzare è inutile inutile nella mia visione andare a comprare libri di approfondimento se quello che c'è scritto su Gilson non è a memoria nel vostro cervello e io ho passato gli ultimi 4 anni della mia vita a memorizzare ogni singola parola che c'è scritta su quel sito e tutto il nostro team ha sempre passato ore e ore e ore a studiare su Gilson quindi Gilson è la prima cosa che io raccomando la seconda parla della storia di Verticale vista da me vi racconto questa storia che è bellissima allora praticamente molte delle cantine che hanno vecchi Bordeaux e quando dico vecchi dico vecchi vengono dalla Germania vengono dai nazisti che ai tempi prendevano il vino da Bordeaux dalla Borgogna e se lo infilavano nelle loro cantine succede che ci sono delle persone che sono pagate per andare in giro nel mondo a scovare queste cantine leggendarie uno di questi diciamo broker PI investigator trova una cantina dove si nascondono le ultime due bottiglie di Chateau Latour 1901 ad aprirle sono stato io insieme a Federico e cosa succede però? succede che questi collezionisti non hanno nessun punto di riferimento su che cos'è questo cazzo di 1901 scusate la tour non c'è data cioè come facciamone a scoprire chi è che è vivo del 1901 che ci può raccontare cosa è successo in quegli anni lì qui arriva uno dei più grandi libri che io abbia mai letto come resoconto storico che è Vintage Wine di Michael Broadbent Master of Wine quello che io reputo forse un piccolo maestro spirituale di verticale cosa succede? questi collezionisti vanno su nella nostra libreria prendono Vintage Wine e si mettono religiosamente a leggere e qui mi prendo un momento per leggere con voi io apro il libro e mi trovo magicamente Chattolatur e una descrizione del 1901 come annata e sto parlando di due righe in croce leggo il 1901 dice un'annata di grande produzione con qualità non costante segue segue solamente una piccola vecchia nota Chattolatur 1901 bevuto nel 1981 il rating è due stelle su cinque e dice ricco chicchi di caffè secco e dice faded faded tipo avete presente quando le canzoni fanno il fade out quindi è è un vino che diciamo dimmi Gianlu sfumato sfumato bravissimo un vino sfumato queste due righe di merda hanno permesso a noi di dare un senso di sacralità infinita alla bottiglia che stavamo bevendo questo libro è stata la cosa più importante in un assaggio molto importante della mia esistenza come sommelier e come professionista nel mondo del vino cosa succede? mettete che voi vi trovate ad avere una bottiglia del 2005 rosso di Fonterenza Verticale è l'unica rivista che vi dà una memoria storica per poter interpretare quel vino nella vostra maniera dopo aver sentito qualcun altro parlarne e raccontarvi cosa ne pensa Verticale è la memoria storica dell'Italia che non crede in se stessa esattamente all'equale di Michael Broadbent quando parlava di Chateau Latour nel 1901 questo è il mio sogno questo è come io vedo questa rivista vi consiglio di avere questo libro solamente per leggere un po' di memoria e poi chiaramente abbonatevi a Verticale e raccontateci come vivete quei vini comprate voi produttori tenete questi cazzo di vini in riserva e voi collezionisti beveteli quando è ora perché quando noi vi stiamo dicendo che un labrusco di Sorbara di adesso dovete bere il 2014 o un rosso di Montalcino un 2009 o un greco vi potete bere un 2008 stiamo dicendo una follia per quello che è il mondo in Italia adesso ma io penso che dovete crederci un attimo al vino italiano e anche a quello che noi possiamo dirvi quindi questo è il mio secondo è il mio secondo grande suggerimento il terzo è due libri di cui ho parlato già che sono Inside Burgundy di Jasper Morris e Inside Bordeaux di Jane Hanson perché? perché secondo me questo è il futuro della didattica e dovete secondo me avere almeno un'idea di cosa questi libri significhino perché sono dei libri un po' dry si direbbe in Italia per me non sono dry per me sono meravigliosi perché vanno al core di un'essenza e quando si parla specialmente di cose che hanno livello di qualità molto alto c'è bisogno un attimo di tenere le cose non so se vi fa piacere se vi leggo magari qualcosa da magari Inside Burgundy allora il mio crew preferito di Volnay è L'Hemmy Tons a me fa veramente impazzire mi piace è chiamata e tu dici chissà quanto dovrai dire di L'Hemmy Tons L'Hemmy Tons Volnay per il crew menzionato per la prima volta nella martirologia di Notre Dame a Bonn nel 1236 durante gli anni il nome è stato scritto Muitons o Muitons con una diciamo sfortunata aberrazione nel 1790 come Mewtons quindi Mewtons scritto il nome probabilmente si riferisce al Muiton Middling adesso tradurvi Middling cioè è la situazione di come funziona la salita ok cioè come è strutturata una pendenza la vigna è esposta a est in uno stile simile a Hormon che è effettivamente adesso integrato dentro Muitons con un coloratissimo e leggero top soil quindi la parte sopra del terreno di piccole pietre buoni esempi possono essere trovati su Domaine de Montil e Michel Lafarge dal 2005 Jasper non ci ha detto come questo vino va effettivamente bevuto ma ci ha raccontato la sua storia e ci ha dato un'idea di com'è cioè nel senso io in questa piccola descrizione mi sono sentito lì dà un senso dà un senso alla lettura ed è esattamente quello che io cerco come sommelier qual è il punto il punto è che è inutile leggere libri di vini di cui non beviamo per me questi libri ogni sommelier dovrebbe avere questi libri perché molto probabilmente si troverà a bere questi vini prima di bere questi vini leggiamo cosa c'è scritto qua dentro quindi io quello che consiglio è di avere questi due libri per un motivo perché uno io spero mi auguro che voi compriate qualcuna delle bottiglie di cui parla Jasper di cui parla Jane per poi poter leggere e confrontarvi con loro o almeno con la loro spiegazione questo secondo me è molto importante perché Less is more è una cosa di cui io credo veramente tanto e questi due libri hanno tanto di questo Less is more come abbiamo visto su Michael Broadbent e insomma è un mondo di riferimenti e in Italia ancora una cosa così non c'era qualcuno ci ha tentato però in Italia ancora non c'era una cosa così secondo me c'era uno speciale di Portos bellissimo mi sa che si chiama Rimaniamo Giovani su Emilio Pepe bellissimo però anche lì secondo me non c'era quello che io vedo su Vintage Wines di Michael Broadbent quindi spero che questa cosa arrivi su questa rivista che abbiamo lanciato e niente questa è la mia piccola pasticceria Nelson hai onorato la piccola pasticceria che è diventata quasi un momento sacro ci siamo mossi tra il più grande wine club al mondo tra Seneca il design di videogiochi verticale è stato un viaggio bellissimo lungo bellissimo approfondito ti ringraziamo per aver onorato questa rubrica perché qua cito Gianluca la qualità dei nostri output dipende molto dalla qualità dei nostri input quindi viva i consigli dei nostri ospiti Nelson grazie mille io spero di cuore di venirti a trovare a Londra comunque ci vediamo in Emilia e un grande abbraccio un abbraccio a voi grazie mille e continuate così è un podcast che a me piace veramente tanto un posto di libertà assoluta ma soprattutto è un podcast che rispetta un sacco il tempo di ascolto insomma io quando ascoltavo Morichetti era la mia intervista preferita ma forse una delle mie interviste preferite in assoluto e quella lì è un'intervista se secondo me devi proprio metterti lì seduto e ascolti perché è facilissimo perdersi il nostro cervello parla con se stesso più di quello che dovrebbe e questo è un podcast che è fatto secondo me molto per quel tipo di ascolto quindi complimenti a voi e io sono fiero di essere un ascoltatore di questa cosa e grazie mille e ora anche un ospite grazie mille che onore Nelson è stato un piacere essere ospitati nel tuo podcast onore mio e piacere mio e noi ci vediamo davanti a qualche lambrusco io vi dico sempre basta champagne rosé vai di lambrusco vai di sorvara ciao ragazzi alla prossima ciao Nelson hai ascoltato Juiz It Up per altri contenuti di Juiz ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuiz.net